Come diventare Leonardo da Vinci? Si può diventare Leonardo da Vinci? Molti mi criticano e dicono Non si può diventare Leonardo da Vinci? Come fai a diventare un genio come Leonardo? E' talmente inarrivabile? No! Leonardo si può diventare. Ce lo insegna lui stesso, nei suoi manoscritti. Nei suoi codici ci racconta Leonardo come ha fatto a diventare un bellissimo pittore? Come ha fatto a diventare un ingegnere? Ma soprattutto come ha creato quelle macchine meravigliose che vediamo tutti quanti nei musei? Ebbene, ci sono delle tecniche, dei segreti. Leonardo è stato al Verrocchio, ha imparato a dipingere, ha imparato a disegnare, ha imparato i trucchi e i segreti per diventare un bravissimo artista. Non solo, lui ha osservato la natura in modo completamente nuovo. Lo vedremo insieme, scopriremo quali sono stati gli indizi che Leonardo ha utilizzato per creare delle macchine diaboliche, partendo sempre da oggetti naturali. Ebbene, c'è del metodo, c'è della scienza su come diventare un genio. Leonardo ce lo insegna e cercherò di trasmetterlo attraverso questa presentazione incredibile fatta attraverso anche un museo virtuale interattivo dedicato a Leonardo, il più grande museo virtuale dedicato a Leonardo da Vinci, dove scopriremo le sue macchine, i suoi manoscritti, il segreto della gioconda. Perché l'ultima cena sembra vera? Ma soprattutto tutte le sue macchine per arrivare a capire che c'è un metodo per diventare noi stessi e far diventare i nostri figli i futuri geni. E attenzione! Leonardo è antico, 500 anni fa, precursore forse della realtà virtuale. Sì! Leonardo, i suoi studi sono importantissimi e sono fondamentali per la moderna tecnologia. Non solo! I suoi insegnamenti sono attuali anche oggi. per imparare a diventare dei bravi artisti digitali, NFT, metaverso, bisogna fare dei modelli tridimensionali e Leonardo ci insegna proprio a fare questo e ci insegna anche cos'è la creatività. Lo scopriremo insieme in questo come diventare Leonardo da Vinci. e ci insegna proprio a tutti i nostri figli.